Si sta connettendo al set? Perfetto. Allora cerco di essere celere. Oggi parliamo del libro di Marco Moretti e Marco Moretti parlerà soprattutto lui del suo libro Il futuro, visione di una possibile tecnologia digitale, un libro ampio, poliedrico, che spazia su vari argomenti legati alla tecnologia, ovviamente. Ovviamente. È un libro che suscita molti quesiti e questo è, come diceva Chiera Davila, Gomez Davila, un grande libro che non dà risposte ma dà domande, che suggerisce domande. Quindi questo ci porta anche poi, e porterà anche voi, spero, a fare delle domande a Marco. Sicuramente noi tre activist che siamo qui, io, Riccardo e Andrea, abbiamo già, abbiamo intenzione di proporre a Marco delle domande sul libro. Quindi io ora, che ho fatto questo preambolo, spero sia stato il più celere possibile, passo la parola a David, che introdurrà il libro, e poi la scaletta più o meno così è, David introduce il libro, Marco parla con le slide per quanto meglio ritiene, ovviamente. Ci sarà poi noi tre activist, faremo delle domande, poi ci sarà il Q&A open, aperto a tutti, chiunque può fare domande. Mi permetto un'ultima cosa, noi abbiamo creato Google Form, un piccolo sondaggio per saggiare l'intelligenza collettiva, chiamiamola così, i vostri interessi ed eventualmente avere i vostri feedback, su quali potrebbero essere, fra una serie di argomenti che ci sono in questo Google Form, di cui ora leggo il link in chat, sui prossimi eventi che potremo fare noi, in chapter di Milano, di Singularity Diversity. Se avete interesse, voglia, curiosità e passione, per consigliarci, siamo ben lieti. David, a te la parola. Grazie, Severio, per aver aperto questo incontro. A me, come vedete, fa sempre piacere quando vengono pubblicati nuovi libri. La nostra capacità di analizzare, formulare, registrare e diffondere le nostre idee è aumentata in una maniera incredibile quando siamo passati dalla cultura orale alla cultura scritta. E tutt'oggi i libri sono uno strumento indispensabile, non solo perché l'autore abbia modo di diffondere le proprie idee, ma proprio perché stimolano delle conversazioni in modo, secondo me, ineguagliabile. E proprio di questi giorni la notizia, che spero anche voi abbiate sentito, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella decodifica dei rotoli di pergamena ritrovati ed ercolano, completamente carbonizzati e quindi inaccessibili, se non attraverso delle tecniche recentissime che trasformano una scansione tridimensionale dei suoi strati in effettivamente un testo che al momento e all'inizio, ma che promette di avere una visione incredibile nelle profondità del passato che pensavamo di aver perduto. Abbiamo autori, filosofi, uomini politici dell'epoca romana e anche prima che hanno scritto dozzine o addirittura più di un centinaio di opere, lo sappiamo perché altri ne parlano e ne sono sopravvissuti magari una manciata o nemmeno. Abbiamo da sempre questa percezione del passato che ci influenza e a cui giustamente facciamo riferimento e siamo affascinati dalle civiltà del passato, dai pensieri delle persone del passato. Mentre è un po' più recente la nostra percezione del futuro e della nostra capacità di chiederci cosa succederà nel futuro vicino, lontano e com'è questo futuro che si svolge può influenzare la nostra vita e la vita dei nostri figli. Io spesso dico siamo dei viaggiatori nel tempo, tutti assieme un minuto al minuto procediamo verso questo luogo nel tempo e quando ci arriviamo sarà meglio che sia qualcosa che ci fa piacere condividere con tutti quanti. e la convinzione che abbiamo la possibilità di capire il futuro e anche di determinare in un certo grado un futuro affinché questo sia desiderabile è una convinzione per me esaltante, importante ed è qualcosa da rafforzare, da irrobustire. Infatti se tu nascevi nel medioevo la probabilità che eri un contadino era il 99% così come lo era tuo padre e così come lo erano i tuoi figli. E se anche allora comunque c'era il progresso tecnologico, gli aratri miglioravano, le tecniche di movimento della terra, di come imbrigliare gli animali, di come immagazzinare e mantenere per l'inverno e per le stagioni successive quello che hai raccolto, tutte queste cose pian piano miglioravano però con un ritmo tale che era difficile accorgersene. C'erano pochi momenti in cui poteva essere magari evidente, oh questo è qualcosa di nuovo, effettivamente vale la pena di adottarlo. Negli anni 80 noi abbiamo cominciato a parlare di formazione perché ci siamo accorti che non bastava quello che si imparava all'inizio della carriera per arrivare alla pensione. E molte persone erano soggette ai corsi della loro azienda per acquisire quel qualcosa di più che poteva servire per far da ponte gli ultimi dieci anni forse e poi un respiro di sollievo non c'era più bisogno di sforzarsi. 40 anni dopo ci rendiamo conto che anche quello solo era una fase. La vita media degli elementi radioattivi ne caratterizza la velocità di decadimento. E oggi abbiamo una vita media della conoscenza utile che ha una velocità di decadimento tale per cui non è più possibile illuderci. Non solo che quello che abbiamo appreso a scuola sia sufficiente, e quell'illusione penso che pochi ce l'abbiano ormai, ma che basta uno sforzo ogni tanto per tenerci in una situazione nella maniera più riduttiva ma anche concreta economicamente utile, ma anche in una situazione dove ci sentiamo partecipanti al mondo, non passivi ma attivi, dove sentiamo che abbiamo una prospettiva di poterlo capire e un desiderio, un'abilità di poter intervenire, anche dialogando con altri nostri pari oppure con i nostri figli o le generazioni anche dei nostri nipoti. E quindi oggi abbiamo bisogno di aumentare la nostra curiosità, di aumentare la nostra capacità di uscire da una zona di conforto, di estendere la nostra adattabilità per sperimentare con quelle cose che definiranno un futuro che non è solo quello remoto dei libri di fantascienza, ma è il mondo di fantascienza che ci circonda e che abbiamo bisogno di non perdere non solo di vista, ma di capire nella maniera più concreta possibile. E un libro come quello di Marco è uno strumento che può essere veramente di grande valore e di grande utilità per fare proprio questo. Sono molto contento che lui mi abbia invitato di scriverne la prefazione che ho fatto volentieri, ma sono molto contento che dopo aver visto la luce del sole, arrivato al compimento della sua pubblicazione, possa oggi essere all'inizio di una traiettoria importante in cui poi funge da catalizzatore di idee, di conversazioni e di azione perché il futuro che arriva sia un futuro di cui siamo contenti. Grazie Marco. Grazie David. Ora io, Saverio, posso quindi iniziare un po', vi racconto un po' che cosa mi ha portato a scrivere un libro? Dimmi, dimmi Saverio. Dicevo assolutamente, certo, certo. Allora, innanzitutto, lasciatemi ringraziare tutta la comunità degli attivisti di Singularity University, alla quale sicuramente ho fatto parte negli ultimi anni, cerco ancora di farne parte, nonostante l'ultima responsabilità che ho preso, quella di fare le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che sicuramente mi assorberanno molto nei prossimi mesi, però ho fatto trent'anni, diciamo, di esperienza nelle aziende, prima come consulenza, poi nelle aziende, e quindi cercherò di raccontarvi cosa può portare un manager che la tecnologia, l'innovazione l'ha portata molto spesso nelle aziende e poi anche a scrivere un libro. Ma sicuramente l'attivismo in Singularity University è di ispirazione, sia dal punto di vista degli ormai 40-50 incontri che questa comunità ha fatto, nei contenuti di innovazione che ha portato, nel supporto da parte di David, che ci fa sempre vedere oltre, rispetto a quello che è l'orizzonte temporale, di quello che sarà l'impatto della tecnologia. Allora, adesso vi condivido giusto un paio di slide, che servono più che altro per facilitare una sintesi, insomma, che volevo un po' portarvi questa sera. Una seconda premessa, oltre all'ispirazione di questa comunità, devo dire a tutti voi, se avrete nella vostra vita un'opportunità di due o tre mesi di pausa tra un lavoro e l'altro, che è quello che mi è accaduto solo dopo trent'anni, quindi nei primi trent'anni della mia carriera io sono sempre stato, tra virgolette, on the job e quando ho cambiato, cambiavo, ma il lavoro dopo, riusciva già ad occuparmi prima di quella data fondamentale. Ho avuto la fortuna di avere quei due o tre mesi di pausa. In questi due o tre mesi di pausa li ho voluti sfruttare per leggere un libro. Consiglio a tutti questa esperienza, sia dal punto di vista di ispirazione, che ho trovato in Singularity, che ho trovato insieme al matematico di Freddi, in montagna, nelle vacanze pitagoriche, che ho trovato nel mio ruolo di professione, in un manager che deve andare in un'azienda a raccontare il futuro, a implementarlo e portarlo a casa, sia come quel momento di pausa in cui cerchi di scrivere qualcosa e di lasciarlo, da punto di vista proprio di sforzo intellettuale, lasciarlo ai giovani di oggi e a chi poi, in qualche modo, vuole fare un percorso parlando di tecnologia. Il mio libro si chiama Futuro, lo vedete qui con questa immagine, con questa cover, che ovviamente l'intelligenza artificiale mi ha aiutato a fare, che è un'immagine che vi dice, perché è un po' l'obiettivo del mio libro, vi racconto il 2040, vi racconto la mia visione di come sarà il futuro, però vi metto allerta su quelli che sono i rischi di utilizzo, di utilizzare o di subire la tecnologia senza dosarla e senza comprenderla, perché se la tecnologia viene usata bene e dà un contributo positivo alla nostra vita, alla nostra azienda, alla nostra società, se viene usata male, ovviamente il contributo diventa negativo e molto rischioso. Io parto da qui, la presentazione di stasera segue un po' le tracce del libro e cerco ovviamente in ventina di minuti di descrivervi un po' in estrema sintesi quelli che sono i contenuti che ho affrontato. Immaginare il futuro è sempre bello, è sempre difficile, come a volte lo immaginiamo con i film di fantascienza che vedete sulla sinistra che sono ambientati dal 2025, 2030, 2050. Molti di questi sono film che non si avvereranno mai, molti di questi invece ci danno una visione che può accadere, che potrà accadere. Per chi magari è meno giovane, vedete in basso a destra i Jetsons, questi cartoni animati che più di 20-30 anni fa avevano già illustrato lo smartwatch, avevano già illustrato la videoconferenza, certe tecnologie o i robot che oggi cominciamo a vedere e avevano anche illustrato l'aria inquinata della società del futuro, quindi purtroppo anche questa è un'altra caratteristica che sono riusciti ad azzeccare. In alto invece vedete delle cartoline di molti anni fa che immaginavano un anno 2000, quella è una cartolina che immaginava quello che oggi con il nostro cellulare possiamo già fare, quindi riconoscimento vocale e una macchina da scrivere che trasforma in testo quello che sente nel riconoscimento vocale. Quindi immaginare il futuro per chi non è addetto ai lavori, per chi non ha la fortuna di partecipare a una comunità come questa di Singularity University o chi non ha la fortuna di fare un lavoro come il mio dove devi applicare l'innovazione in azienda o dove lavori, ci si prende, ci si fa un po' influenzare da queste fonti. Questo è un altro elemento importante che vi voglio raccontare oggi, anche questo non so dove mi porterà, però è stata una visione un po' che ho avuto. Dovendo scrivere un libro sul futuro, beh è chiaro che dopo qualche mese dalla pubblicazione, dopo un anno dalla pubblicazione, due anni dalla pubblicazione, la pubblicazione deve essere aggiornata. Gli ultimi accadimenti, come quello dell'altro giorno di Elon Musk sul BCI che ha annunciato che è stato impiantato su un umano, ecco, come faccio a riportarli in un libro che rimane statico? Allora ho creato un gruppo all'interno di questa piattaforma che non è in questo momento utilizzata solo dai lettori, perché ovviamente sono gli unici che lo sanno, ma adesso lo sapete anche voi, è fatta a sezioni, riprende per ogni capitolo del libro un po' di contenuti e favorisce due cose, all'obiettivo di questa piattaforma sono due. Il primo è quello di mettere degli aggiornamenti rispetto a quello che è accaduto, io cercherò di mantenerlo vivo il libro, il libro è un po' un inizio, però nella piattaforma troverete qualche aggiornamento rispetto a qualche ultimo accadimento importante che se non riuscissi a riaprire il libro metterei nel libro. Il secondo, siccome guardare il futuro è un po' come, beh, è una palla di cristallo, no? Cerco di immaginare, ma magari alcune immagini, alcune previsioni sono magari, si riveleranno sbagliate, è quello di cercare di cercare un confronto. Qui chiedo anche un po' ai miei lettori durante, mentre lo leggono, di andare, magari faccio delle domande, di andare a fare delle critiche, di creare delle discussioni all'interno di queste sezioni. L'applicazione è disponibile sia su App, che vedete a sinistra, e sia su sito e si chiama Tapa Talk. È molto diffusa sulle discussioni, sul forum, sulla società e su tutto il resto. Primo elemento fondamentale che voglio riportarvi oggi è guardare il passato. Ora, questo un po' lo spiego anche questo all'interno del libro. Questi sono tutta una serie di prodotti e servizi che sono stati spazzati via solo da una tecnologia, che è il mobile ed internet, anzi, dall'unione del mobile rispetto ad internet. Nella storia, spesso, per cercare di immaginare in futuro, si è guardato il passato e si è detto vediamo cosa è successo negli ultimi vent'anni e cerchiamo di capire che cosa succederà in futuro. Qui direi che l'ispirazione che ci dà Singolarity anche dalle pubblicazioni che ha fatto in passato David e che sono state comunque un'ispirazione per me, ci dicono che il futuro e che la tecnologia è esponenziale, quindi guardare il passato per cercare di immaginare il futuro sicuramente magari su qualche contenuto ci può aiutare, ma sicuramente non sulla velocità che è sempre ogni volta maggiore rispetto a quello che è stato il passato. Quindi, probabilmente il passato non ci può aiutare, però è d'impatto vedere tutti questi prodotti e servizi come sono stati spazzati via negli ultimi vent'anni e che molti di questi magari ci hanno messo trent'anni, quarant'anni per affermarsi sul mercato e hanno subito una dismissione nel giro di massimo una decina d'anni. Pensate per esempio a Blockbuster rispetto a Netflix. Questo è un po' l'indice del mio libro. Io ho cercato, non è stato facile perché le tecnologie sono tante, esistono vari glossari, anche tra di noi da chi ha il lavoro è difficile intendersi, categorizzare in dieci, in dieci ondate tutte le potenziali innovazioni tecnologiche in una visione come vedete abbastanza ampia rispetto alla sola tecnologia informatica che è solo un subset che potrebbero cambiare il futuro e la società dei prossimi anni. Nel libro descrivo questa curva rossa che è tipica di come le tecnologie agiscono. Le tecnologie partono dal basso sinistra, vanno nella curva rossa nella fase di picco, in questo momento noi siamo al picco dell'intelligenza artificiale, alcuni dicono la bolla dell'intelligenza artificiale, ma ricordate che nei 2000 ci siamo arrivati negli anni 2000 con la bolla internet che poi si è sgonfiata e che poi ha ripreso la maturità. Quindi arrivano alla bolla, arrivano al massimo, hanno una fase depressiva, in questo momento siamo nella fase depressiva del metaverso che aveva avuto la bolla forse uno o due anni fa, ma poi arriveremo nella fase di maturità dove la tecnologia arriva alla fase finale di questa curva, alla maturità, dove scarica veramente a terra i cambiamenti nella società, nelle aziende, nella vita di tutti i giorni. Quindi descrivo nel libro, oggi non abbiamo il tempo per vederle tutte e dieci, vi ho riportato solamente un flash sulle due a più alto impatto, però descrivo ovviamente l'internet mobile e social come già maturo, descrivo i big data che nelle aziende stanno sempre più affermando, descrivo tutta la robotica e analizzo la sua convergenza col mondo dell'elettronica, l'IoT con la convergenza col mondo dei sensori, il metaverso, i nuovi materiali che convergono verso la chimica, nei nuovi materiali ho messo le stampanti 3D e ho messo tutte le nuove scoperte del grafene e di tutte quelle altre materie che potranno in futuro essere base di nuovi prodotti e servizi, l'intelligenza artificiale che converge verso la psicologia, il mondo del green, sono convinto che il climate change, il cambiamento climatico, adesso è un po' in fase, viene considerato una minore priorità, ma rimane una priorità importante, un'analizzo molto importante secondo me per il futuro, la blockchain con i suoi scenari decentrati di società e la bio e neurotech cioè la digitalizzazione della tecnologia umana che abbiamo visto col vaccino di Pfizer fino ad arrivare alla singolarità che è facile per ovviamente voi attivisti singolari di universo di comprendere cosa intendiamo. Ecco, le tecnologie che un po' vediamo tutti i giorni possono secondo me essere ricondotte in queste dieci onde che descrivo con la loro velocità con le loro innovazioni che porteranno e cerco di descrivere nel libro. Ora, solo due di queste oggi vi ho riportato un po' come un piccolo flash una l'intelligenza artificiale anche David adesso l'ha introdotta soprattutto l'intelligenza artificiale generativa io comincio ovviamente da quella del vincere agli scacchi che però non è intelligenza artificiale perché è deterministica cioè sempre a parità di informazioni che diamo alla macchina la macchina reagisce sempre con le stesse risposte invece la i generativa che abbiamo visto da CiaGPT a da LIA tutti questi software sono come vedete a destra partendo dal testo generano testo partendo dal testo generano musica partendo dal testo generano immagini partendo dal testo generano codice o partendo dalla musica generano un video o partendo dalle immagini generano un video e lo fanno in modo mettendo insieme la base dati di conoscenza che noi gli abbiamo dato e cercando di emulare la creatività umana nel creare un altro media quindi nel libro descrivo le varie forme di queste modalità diverse generative sostengo ma anche qua cerco un confronto con voi che l'intelligenza artificiale che noi vediamo in questi giorni all'opera non sia senziente e sostengo che non sia neanche tanto creativa perché alla fine quando crea un nuovo testo quando crea un'immagine non lo fa come la creatività umana ma lo fa assemblando le informazioni che noi gli abbiamo dato e quindi crea un quadro guardando 260.000 quadri non crea un quadro come un umano che ha creato per la prima volta quel quadro però magari ci siamo vicini siamo vicini a perché in futuro l'intelligenza artificiale possa essere senziente o perché possa essere veramente creativa non semplicemente imitando la creatività umana questo è solo un flash che vi voglio dare di alcune posizioni che prendo che poi spiego all'interno del libro un'altra di quelle dieci tecnologie ad altissimo impatto forse a mio parere ma questa è ancora una mia opinione ancora più importante rispetto all'intelligenza artificiale perché arriverà ad innovare la tecnologia umana arriverà ad innovare come siamo fatti noi e lo si è visto dal vaccino Pfizer è quella della biotech e quindi la digitalizzazione della tecnologia umana a sinistra vedete un estratto del mio codice genetico che ho ci sono tanti provider che con un prelevo di saliva vi possono mandare a fare mandare a casa i 16 milioni di caratteri del vostro codice genetico e a destra spiego un po' quello che ho imparato dal vaccino di Pfizer che sono andato proprio a studiarmi è proprio un programma di 4.000 caratteri e i caratteri a differenza dello 0-1 che noi siamo abituati a avere nell'informatica sono 4 e sono le 4 sostanze che compongono il DNA che si memorizzano con la C con la T con la G e con la A che sono i 4 codici e sulle cose di questo siamo arrivati a creare un programma come se fosse un programma digitale dove l'equivalente del bit è sostanzialmente questo neurone l'atomo e il gene che sono i due fratelli a livello materia diventano il bit e il neurone a livello a livello di informazione ecco non mi voglio spaventare però io sono convinto che questa sia infatti l'ho messa nello schema di prima rivoluzionerà il mondo della medicina rivoluzionerà il mondo della diagnostica potrà portare a veramente degli impatti importanti da punto di vista medico farmacologico e allungherà in modo importante la longevità di tutti noi e cambierà in modo importante la società del futuro però questo lo ripeto sto cercando di dare anche delle suggestioni per cercare anche di generare in voi qualche quesito qualche domanda questa è la fase verso la parte diciamo centrale del libro mi pongo il problema perché io comunque sono sostanzialmente un manager che lavora nelle aziende di quali sono le competenze del futuro e quali sono le professioni del futuro perché poi è chiaro che vedendo tutta questa rivoluzione tecnologica e vedendo la velocità con la quale sta agendo che è esponenziale e l'ampiezza con la quale sta agendo adesso vi racconto un po' da questo schema prima la prima reazione di un non addetto ai lavori è di paura questa cosa cambierà il mondo cambierà la società io ne sono tagliato fuori la prima reazione di un addetto ai lavori è invece che bello questo è tutto il mio mondo avrò sicuramente un futuro ecco questo schema vi racconta quanto è ampio il campo d'azione della tecnologia non parliamo più solamente di informatica qui se voi partite dalla fisica applicata potete trovare un percorso che dalla fisica applicata arriva all'idrologia arriva alla fisioterapia arriva alla filosofia arriva alla medicina arriva all'economia questi collegamenti dicono che le nostre competenze che le nostre discipline che noi studiamo nelle nostre università sono collegate perché il futuro la tecnologia la scienza la tecnica il digitale è come se fosse un'alluvione che sostanzialmente ha invaso tutte le discipline chi in passato studiava psicologia si è trovato alluvionato dai bit e dal mondo delle tecnologie e oggi deve studiare l'intelligenza artificiale o quali sono i modelli che l'intelligenza artificiale ti può aiutare per costruire per essere un psicologo empowered aumentato in termini di capacità nel proprio lavoro e questo schema ogni collegamento qui è uno studio sono andati ad analizzare i documenti delle università i documenti di ricerca che collegano le discipline da di loro allora io sfrutto nel libro questa convergenza e questa ampiezza con due obiettivi prima quello di dire se sei un biologo e ti senti tagliato fuori dal mondo delle tecnologie digitali non ti preoccupare perché la tua biologia diventerà biotech sfrutta la porta d'ingresso della tua competenza in biologia per entrare nel fantastico mondo del digitale dell'innovazione della scienza della tecnica perché anche tu anche la tua disciplina diventa biotech diventa digitale e si può collegare con tante altre quindi il primo è sfruttare la porta d'entrata il secondo riprendo il concetto che diceva adesso David allora in passato noi studiavamo all'interno dell'università poi andavamo a lavorare in funzione di quello che avevamo imparato ma ovviamente in un mondo così incasinato così ampio così in movimento così convergente è evidente che se voi mi chiedete qual è la competenza più importante per il futuro è solo una la learn to learn cioè essere capace di imparare dovremo sempre studiare tutti i giorni non possiamo studiare come diceva anche prima David studiare adesso per pensare i prossimi cinque anni abbiamo studiato adesso applichiamo no perché la velocità con la quale la scienza la tecnica evolvono e l'ampiezza che come vedete abbraccia tutte le discipline è tale per cui quello che noi studiamo oggi vale probabilmente per due o tre anni poi siamo costretti a ristudiare e a rimparare ecco perché sono convinto che per avere successo nel futuro del mercato del lavoro la competenza chiave sia quella di capacità di imparare quella di studiare di essere curiosi di applicarsi in ciò che sta accadendo adesso sul mercato per poi applicarlo nella professione questo adesso senza andare nel dettaglio lo vado a descrivere nel libro a sinistra sono le competenze di una volta quelle meccanicistiche sono competenze che ti portano a fare un lavoro una professione all'interno di un'azienda in modo strutturato con variabili di controllo statiche con meccanismi gerarchici dove studio e poi applico dove progetto e poi realizzo a destra il mondo invece del futuro dove il learning è continuous learning dove le variabili non sono statiche le variabili sono meno controllabili il contesto è meno pianificabile per cui non è che io faccio la progettazione e poi realizzo progetto un ponte e lo realizzo progetto un sistema e lo realizzo devo fare logiche agili iterative prototipali devo provare devo studiare applicare e provare una leadership che va dallo status all'interno di un organigramma dove c'è il mio nome lì e quindi sono il capo ad una leadership di motus cioè dipende da ciò che faccio la leadership me la acquisiscono ecco a fronte delle mie persone sulla base di tutto il lavoro che faccio tutti i giorni e quindi l'orientamento al cliente rispetto all'orientamento al task un'ottile manageriale più iterativo un'organizzazione che da piramidale diventa a rete dove non ci sono più il riporto del riporto che non può parlare col riporto ma quindi c'è un'organizzazione a rete dove l'amministratore delegato può avere una connessione diretta con un influenzatore all'interno di un'azienda che ti porta ad avere una leadership a prescindere dal livello organizzativo nel quale sei nel quale sei inserito ecco tutto questo è un modo però veramente insisto su questo tema la leadership del futuro è figlia del learn to learn è figlia ce la guadagniamo dalle azioni che facciamo tutti i giorni dalla capacità che abbiamo di imparare e quindi se noi applichiamo questo modo di lavorare non dovremmo essere interessati da quella minaccia che ho scritto in basso a destra che alcuni studiosi sociologi americani dicono come un rischio del futuro sono delle frasi massive permanent underclassment undeployment che sono quattro macigni molto molto forti provate a pensare queste parole anche come le hanno definite noi dobbiamo evitare in futuro che ci sia una disoccupazione unemployment massiva quindi alti numeri permanente cioè per sempre non temporanea e che porta anche un underclassment cioè ad una provate a pensare qual è il fenomeno più chiaro oggi che si vede in una società è la polarizzazione se sono sempre più distanti quelli che stanno bene che sono schillati da quelli che sono tagliati fuori e che sono sotto la soglia di povertà questa polarizzazione porterà potenzialmente anche un underclassment a un sottoclassamento della classe media che diventa classe povera perché è tagliata fuori da questo grande da questo grande questo grande cambiamento e quindi io cerco di dare un messaggio positivo con la curiosità e con l'interessarsi a quello che sta succedendo si può diventare si può partecipare a questa grande rivoluzione e essere protagonisti se hai la curiosità e la voglia ovviamente di imparare e quelli che sanno già non hanno un vantaggio competitivo ce l'hanno per un paio d'anni due o tre anni dopodiché se non ti aggiorni se non studi se non apprendi se non mantieni aggiornate le tue competenze hai detto lo testo di essere tagliato fuori questa è una la penultima slide che voglio farvi vedere in questa premessa perché tutto quello che ho detto è a livello mondiale esiste uno studio negli Stati Uniti dove si parla di 97 milioni di posti di lavoro nuovi rispetto a circa 85 milioni di posti di lavoro invece di smessi quindi dove il saldo è positivo io faccio un po' uno spunto un po' critico nei confronti per l'Italia riporto all'interno del mio libro un rapporto consiglio a tutti di leggere del Desi che analizza l'avanzamento di un paese dal punto di vista della situazione del digitale dal punto di vista delle infrastrutture dal punto di vista di come lavora la società come lavorano le aziende e come sono le competenze l'Italia purtroppo cioè adesso lasciatemi fare un piccolo attacco agli ottimisti ecco l'Italia noi dobbiamo essere realisti perché quando sei realista non pessimista sei realista conosci la situazione e poi alla fine agisci e cerchi ovviamente di raddrizzare la situazione questa è la classifica dei laureati in Information Technology in Europa e qui vedete che l'Italia è praticamente all'1,8% è ultima mentre in tante altre statistiche che riporto nel libro non so lo stato dell'arte delle infrastrutture digitali l'Italia è ventesima su 27 però stiamo parlando di ventesima venticinquesima su 27 ventiscesima su 27 quindi allora dobbiamo essere consapevoli della situazione critica del nostro paese per poi agire dal sistema scolastico al sistema di meritocrazia delle aziende al modo con il quale facciamo crescere i manager nelle aziende al modo con il quale poi facciamo anche divulgazione scientifica per tra virgolette raddrizzare questo paese perché altrimenti come sta accadendo i giovani oggi stanno lasciando questo paese ed è sempre di più un aumento diciamo l'uscita da parte dei giovani dobbiamo riportarli da noi ed essere consapevoli della situazione che abbiamo all'interno del paese e l'ultima slide è questa perché io parlo di futuro e parlo di visioni di una possibile tecnocrazia digitale ora questo è l'unico capitolo dove faccio anche un po' di dal mio punto di vista di addetto ai lavori attenzione non sono né un filosofo né un sociologo e ho avuto il vantaggio diciamo il piacere di interagire sia con un sociologo che ha fatto la prefazione insieme a David e sia ad un sacerdote al quale ho chiesto di fare una prefazione per capire anche se la fede può portare a un approccio diverso nell'indirizzare l'innovazione o questo tipo di scenari futuristici ecco parlo di scientismo e di tecnocrazia un pochino di meno di transumanesimo sicuramente per voi che conoscete Singularity University ne avete sentito tanto parlare quindi magari mi soffermo un po' di più sullo scientismo sulla tecnocrazia allora c'è un rischio un futuro in passato abbiamo sempre avuto governi tecnici il governo tecnico del passato chi era? era il professore di economia che diceva ai politici scusate adesso toglietemi un attimo da parte avete messo avete fatto un decreto problema nei ponti adesso arrivo io che sono un tecnico economico un esperto di questa materia e ti metto a posto in futuro c'è è abbastanza probabile che io cito Elon Musk perché l'abbiamo tutti come punto di riferimento nel bene e nel male per lui è il classico tecnocrate è una persona di grandissima competenza ed è probabile che la classe politica del futuro schieda a questi guru tecnologici che cosa ne pensano rispetto a alcuni scenari che si andranno a creare quindi il governo tecnico del futuro più che un governo di stampo economico dovrebbe essere probabilmente un governo di stampo tecnico o comunque tecnico tecnologico dove è il tecnocrate è l'esperto di tecnologia che ti fa che suggerisce al politico come e se ha senso per esempio normare l'intelligenza artificiale la domanda ha senso normare o no l'intelligenza artificiale è una domanda difficile perché devi sapere che cos'è l'intelligenza artificiale devi capire che tipo di regolamentazione puoi fare e quindi di conseguenza suggerire al regolatore o al politico che tipo di legge puoi fare per normare l'intelligenza artificiale quindi allora siamo davanti a un potenziale rischio di tecnocrazia questa è la domanda che io faccio la tecnocrazia ci fu negli Stati Uniti nel 1926 e ci fu dopo la rivoluzione industriale perché diciamo la rivoluzione industriale mise questo tema al centro dell'attenzione e si diceva vabbè via adesso politici via voi pensate solo alle prossime elezioni l'economista pensa solo alla parte economica mettiamo come responsabile dei governi o come diciamo influencer principali ingegneri meccanici che conoscono il nuovo modello della rivoluzione industriale pongo questo problema il rapporto tra scienza tecnica e tutti noi lo scientismo lo scientismo sapete che predica il fatto che la scienza e la tecnica diventano un apparato che governa l'uomo in passato noi noi l'uomo ha usato la scienza la tecnica per migliorare la propria vita ora gli scientisti dicono che in questo momento è la scienza la tecnica che invece fa diventare l'uomo un mezzo e quindi ribaltano sostanzialmente l'apporto tra scienza tecnica e uomo ora e questa parte un po' lasciatemi dire di massimi sistemi è solo la parte finale del libro però mi interessa perché voglio sentire anche i miei lettori e tutti voi che cosa ne pensate se veramente davanti a alla tecnologia che illustro nel libro e davanti a un potenziale utilizzo sbagliato della tecnologia siamo o no davanti a un rischio di potenziale tecnocrazia nel futuro ricordatevi sempre concludo qua la mia chiacchierata che la tecnologia di per sé ogni volta che viene creata una nuova tecnologia può essere utilizzata positivamente o negativamente ora se la comprendi se lo capisci ne sai i limiti ne comprendi i limiti e la utilizzi a dosi limitando nell'utilizzo con intelligenza diventa positiva pensate ad un social se il social lo uso un'ora al giorno diventa positiva magari creo delle connessioni con degli amici che non vedo da vent'anni se la tecnologia o non la conosciamo o non conosciamo i limiti della tecnologia e la subiamo e non riusciamo a limitarne le dosi e la utilizziamo troppo o non conoscendo i limiti andiamo oltre diventa negativa e allora abbiamo il fenomeno dei ragazzi di oggi che passano 5, 6, 7 ore davanti ai social inconsapevoli che il social ti sta guardando monitorizza il tuo il tuo utilizzo ti suggerisce alcuni prodotti servizi del quale sei inconsapevole eccetera o diventa di fatto quasi una droga che ti influenza la giornata tipo o che addirittura muove delle masse quindi questo è un po' il tema che pongo un po' alla fine che volevo anche provare a sentire voi che ne pensate ora io non so se sono andato fuori tempo o sì più o meno una mezz'oretta Saverio avrei finito una piccola introduzione secondo me sei perfettamente nel timing quindi va benissimo e allora senti è assolutamente interessante la tua domanda la tua proposta stimolante di poter parlare anche di tecnocrazia perché no anche lo scientismo e il transumanesimo che non le non le lascerei in seconda fila però se posso permettermi procederei secondo il nostro format come si era un attimo inizialmente prestabilito e quindi eh anzitutto saremo io Riccardo e Andrea a farti delle domande che avevamo meditato e la farà Riccardo perché poi deve fuggire ci ha detto per l'impegno suppongo lavorativo grazie ecco esatto Riccardo se vuoi anche palesarti con la videocamera non forse diventiamo tutti più user friendly eh prego Riccardo allora intanto grazie Marco grazie perché il tuo libro è stato davvero davvero da stimolo da stimolo per una serie di ragionamenti provo provo a fare una brevissima premessa e a farti poi una domanda nel libro sostieni che l'impatto della tecnologia sul lavoro sarà ovviamente significativo con possibile perdita di posti di lavoro nei settori più tradizionali e ovviamente di contro la creazione di nuovi posti di lavoro appunto nei settori più innovativi in base sulla base di questo sulla base delle tue analisi sulla base di quanto di quanto hai ricercato quali sono secondo te i settori innovativi che avranno una crescita in termini di creazione una crescita significativa ovviamente in termini di creazione di posti di posti di lavoro e aggiungo a questa a questa domanda il ruolo che può che deve giocare la formazione nel favorire appunto una transizione sul rispetto anzi al lavoro del futuro ma parlo non solo della generazione io sono un trentenne quindi della generazione dei trentenni ma anche delle generazioni non so dei cinquantenni o comunque di coloro che diciamo hanno una seniority chiaramente diversa da quella che può essere la mia spero di essere stato chiaro Marco chiarissimo Riccardo ne approfitto per tutti gli uomini che o sono in ascolta adesso o vedranno questo video e poi magari stanno facendo anche l'orientation per scegliere che cosa fare in futuro allora ho provato nel libro di spiegarlo in modo semplice ho usato i colori giusto perché ho provato magari poi alcuni colori che ho scelto nel libro magari non riportano il settore che potrebbe avere un aumento allora una premessa prima di parlare di vari settori che esploderanno dal punto di vista di opportunità la premessa l'abbiamo già fatta quindi ci saranno negli Stati Uniti 85 milioni di posti di lavoro in meno quindi da una parte non dobbiamo controbilanciare questa decrescita quindi l'amministrativo l'operatore di call center ci sono certi lavori che oggettivamente già adesso sono in fase di decrescita importante un lavoro il lavoro che ci sarà in futuro rimarrà anzi aumenterà in modo importante tutto quel lavoro che non può essere ovviamente sostituito da una macchina quindi adesso senza fare pubblicità ma l'artigiano della qualità chi sostanzialmente è un lavoro creativo il prodotto che viene fatto a mano qualcosa che viene fatto tailored qualcosa che viene fatto specifico quel paio di scarpe che fai a 300 400 euro perché le cuci a mano ecco quel quel lavoro lì il lusso il fashion noi italiani siamo molto bravi è chiaro che questo tipo di lavori sono fortemente creativi e sono fortemente di lusso e tailored quindi questi sicuramente mettiamoli da parte non solo rimangono ma aumenteranno in modo importante poi vi cito questi sei colori perché me li ricordo io li ho fatti con i colori per ricordarmi allora il bianco il verde il blu il rosso il nero il grigio allora il bianco sicuramente a qualunque giovane che vuole avere un futuro tranquillo suggerirei la digital economy adesso io col bianco alcuni dicono che il digitale e il blu io non sono d'accordo per me il digitale è bianco perché nella fibra il digitale sono dei fasci di luce per cui preferisco perché poi il blu lo uso per un altro settore quindi è chiaro che è facile questo è facile se vuoi studiare nel digitale vuoi studiare nella tecnologia è chiaro che fai il data scientist fai l'information technology manager e va bene questo lo diamo per scontato il secondo settore che io analizzo in modo importante è la green economy allora lo ripeto adesso la nostra la nostra razza umana sta perdendo tempo a fare le guerre ma fino a due anni fa si era posta in modo importante con gli IPCC e i COP il tema del climate change ma io nel libro descrivo perché noi siamo la generazione la peggiore degli ultimi duemila anni perché lasciamo ai nostri giovani un mondo peggiore del mondo che ci hanno lasciato a noi i nostri padri allora il cambiamento climatico è una formula matematica dimostrata cioè il cambiamento climatico è realtà per cui il settore della green economy da tutti i punti di vista dalla mobilità elettrica alla generazione di prodotti sostenibili l'economia circolare e evitare di gettare e riciclare il cibo tutta l'indulta del recycling ora tutto questo settore è in esplosione e lo sarà sicuramente per il futuro quindi ingegneria ambientale chimica ecco tutte quelle competenze che possono portare in generale a trovare dei prodotti servizi che possano cambiare la green economy e possano creare un modo sostenibile di crescita un altro colore è il blu che prima vi ho detto che non mi piace per il digitale perché il blu lo voglio utilizzare nell'acqua la water economy che è un'altra cosa se vogliamo vicino al green ma sicuramente una delle dei prodotti qualcosa che mancherà nel futuro sicuramente è l'acqua soprattutto se è potabile col blu alcuni parlano anche di space economy per cui tutto il settore della defense la space economy vista come il mondo dello spazio eventuali insediamenti l'utilizzo di alcune tecnologie dello space per riportarle poi nell'attività di tutti i giorni anche questo e anche la food economy io il food lo metto vicino al water è sicuramente anche questo in esplosione per cui è un settore dove la scarsità di questo tipo di prodotti e servizi dall'altra parte la necessità porterà ovviamente ad una esplosione di opportunità poi io parlo della grey economy la grey economy questo è già abbastanza standard si parla di longevità si parla di aumento del numero di anni aumento della vita sempre di più estesa quindi tutti i servizi alla persona che si fanno per l'anziano del futuro che è un anziano che però ha una buona qualità di vita che ha un'aspettativa di vita oggi un bambino che nasce oggi è un'aspettativa di vita di 85 anni e quindi media e quindi ovviamente tutta la grey economy i servizi alla persona sono anche questi in modo importante in espansione poi parlo della red economy che non è l'industria pornografica in questo caso ma è io dico red perché è il colore del sangue per cui anche se comunque l'industria pornografica guardate ha il fatturato i volumi di you porn è qualcosa in esplosione esponenziale anche quella la medicina invece come red intendo la medicina intendo tutto il settore farmacologico e l'abbiamo visto col covid anche questo è insomma fare diciamo le professioni che verranno generate in questo settore sono in esplosione solo in Italia stiamo riuscendo in alcune fasi anche a ridurre il personale sanitario ma nel resto del mondo in esplosione esponenziale e finisco con l'ultimo colore che è il tema non mi ricordo se ho usato il viola o il nero ma la tecnologia porterà un'esposizione maggiore nella cyber security e quindi in tutto il settore della sicurezza sia dal punto di vista della sicurezza fisica sia dal punto di vista del purtroppo del militare ma dobbiamo dirlo sia dal punto di vista della cyber security anche questo è un settore nel quale dico purtroppo perché sul militare non possiamo dire purtroppo ma i governi continueranno a spendere è evidente che è in crisi la globalizzazione mondiale che ci saranno due blocchi il blocco Cina-Russia e il blocco dell'americano occidentale e insomma ci sono guerre fisiche ma guerre anche digitali per cui il settore della cyber security è sostanzialmente anche questo è un settore in forte espansione poi aspetto da voi altri colori altre idee che così arricchiamo voglio dire le possibili per i giovani di oggi possibili opportunità per il futuro l'ultima domanda la formazione ecco l'ho già spiegato un po' prima io suggerimenti che darei sono due mi piacerebbe tanto cambiare il sistema scolastico italiano il problema del sistema scolastico italiano è che non è in ritardo è fuori asse che è peggio è fuori asse ed è in ritardo quindi noi dobbiamo il learn to learn l'ho già detto prima il primo elemento fondamentale secondo io non credo nella formazione settoriale perché quello schema che vi ho fatto vedere dimostra che se vuoi avere successo nel lavoro del futuro devi conoscere un po' di tutto un pochino d'economia un pochino di scienza un pochino di di materie umanistiche deve essere tutto bilanciato quindi secondo me la formazione del futuro deve essere generalista e poi deve dobbiamo essere capaci di imparare questa è l'unica cosa che conta non sapere ma sapere imparare grazie grazie Marco grazie mille grazie Riccardo Andrea vuoi farti la domanda vuoi che la faccia io no grazie mille ciao Marco grazie perché è interessantissimo leggerti ma anche ascoltarti prima hai citato nella premessa Elon Musk hai citato Neuralink sostanzialmente che ha impiantato la prima interfaccia neurale su un paziente umano questo tipo di interfacce però potrebbero anche essere in futuro utilizzate anche da parte di popolazione sana per fini di human enhancement e quindi vorrei chiederti cioè oltre agli evidenti benefici per i pazienti che non possono muoversi e comunicare quali rischi vedi in un potenziale utilizzo trasversale e se poi l'integrazione dell'AI del mind uploading forse solo in lettura per ora può essere un anticamera di una società distopica e allora collegandomi alla formazione mi chiedo non dovremmo quanto prima formare bambini e ragazzi sulle neuroscienze anche alla luce dell'utilizzo che già si fa oggi dello smartphone solo dello smartphone questo è un po' qualcosa che vorrei chiederti io la BCI me la sono un po' studiata però devo dire anche qui grazie molto a tutti voi anche a David mi ricordo che è stato mi sembra un incontro uno degli incontri che sono stati fatti da questa comunità proprio parlava di interfaccia cervello macchina o di brain computer interface allora cerco di dare una risposta abbastanza generalista perché non sono un esperto di questa materia però sicuramente mi piace spesso nel libro io cito sempre Black Mirror perché secondo me al di là del fatto che alcuni episodi magari sono un po' estremi e fanno vedere però molto queste realtà distopiche dalle quali tu parli c'è come un 2 o 3 che parlano proprio in modo specifico della BCI e dei potenziali impatti negativi che potrebbe avere non se viene utilizzato in un malato di Alzheimer o magari qualcuno che ha delle difficoltà motorie per leggere quello che pensa e riportare magari quell'informazione in un movimento meccanico magari nel braccio ma per esempio c'è un episodio mi ricordo dove si parla io applico questo lettore di memoria e questo lettore di memoria mi permette di mandare a qualcuno quello che io sto vedendo e quindi c'è questa madre che lo impianta alla figlia perché è ossessionata del controllo della figlia vuol vedere cosa vede la figlia come se fosse una specie di webcam sempre in lettura perché questo dispositivo sostanzialmente legge quello che l'occhio della figlia in quel momento sta a vedere e fa vedere delle cose molto problematiche di quello che potrebbe succedere oppure voglio dire l'abbiamo visto tutti in Buzz and Snatch un altro pezzettino di Black Mirror oppure il film The Moment dove ci si può indossare questo piccolo caschetto questo caschetto misura se tu sei agitato o no se sei agitato il film cambia finale verso un finale più tranquillo se ti stai annoiando il film va verso un finale magari invece che ti mantiene un po' più un po' più attivo durante la fissione ecco questo è un altro utilizzo più commerciale che si potrebbe fare ma e non siamo anche a differenza del caso di prima dove siamo ancora molto lontani non è difficile questo perché il casco già oggi l'avete visto nell'applicazione di Neuralink legge lo stato d'animo dei due animali a quale è stato applicato adesso dicono di una persona ti legge se sei agitato o no questo è già ormai disponibile disponibile sul mercato poi c'è un altro episodio ancora più estremo dove c'è questo BCI che viene applicato per leggere i ricordi dove non sta leggendo quello che tu stai pensando ma legge i ricordi cioè prova a immaginare ma cosa succede se io riesco a decodificare un ricordo che viene memorizzato nella mente di una persona e ci sono tanti tanti bei ragionamenti per esempio a livello poliziesco o a livello di una scena di crimine dove ecco quindi delle cose che fanno un po' paura a vederle e poi ovviamente l'ultimo scenario che in questo momento però non l'ho ancora visto poi ditemi voi magari se l'avete già visto applicato non è di lettura della mente ma è di scrittura della mente avevo visto forse un prototipo in passato dove avevano fatto un piccolo impianto con un piccolo topolino e accendendo o spegnendo un dispositivo lo costringevano a mangiare o no ecco questa cosa sarebbe molto preoccupante però mi sembra di poter dire che a livello sperimentale non ho visto ancora questo tipo di soluzioni né in Neuralink né disponibili però è molto bello il messaggio che vedrai a tutti i giovani è se ti piace il mondo della neurotech è sicuramente un settore in esplosione esponenziale cioè è sicuramente un settore su quale si può mettere comunque grazie a me allora Marco passo io guarda vado alla mia senza allora il covid è stata una cosa drammatica voglio dire ci sono stati milioni di morti mezzo miliardo di contagiati collasso dei sistemi sanitari però però come tu giustamente avevi parlato nel libro anche del biotec del nostro del lacherare il nostro codice genetico chiamiamolo così affini terapeutici è stato il covid è stato il grande banco di prova della tecnologia mRNA cioè se io vado sulla pipe di moderno biotech e mi vedo vaccini per tumori solidi ematopoietici HIV fase 1 2 alcuni sono quasi alla fase 3 quindi diciamo che è stato un dramma che però come tutti i drammi ha portato anche una risposta una reazione ora se noi associamo questi vaccini che saranno anche terapeutici a livello di infezione virale ma sicuramente anche a livello di tumora nel campo oncologico e se associamo anche all'uso di promettenti farmaci anti aging come la rapamicina la metformina insomma l'aging e l'invecchiamento della popolazione direi che è un trend che ormai già è consolidato e sarà ancora più consolidato in futuro e se stai pensionistici che ne facciamo no ora scusa un'ampia premessa è una brutale domanda però io penso di poter condividere con voi una certa preoccupazione perché hai ragione cioè il tema è che se la vita sarà sempre più lunga e l'aspettativa di vita è sempre più lunga è evidente che lasciamo stare il paese Italia in questo momento perché dovrei ancora criticarlo ma un paese normale un paese che se io verso durante la mia vita lavorativa dei contributi questi contributi vanno a finire in un fondo e poi è lì quel fondo lì è lì nessuno lo tocca e che poi questi contributi più o meno rivalutati servono per pagare la mia pensione è il meccanismo che dovrebbe usare il meccanismo così siamo sicuri che non vengono tra virgolette persi invece pensare che la pensione di una persona che va in pensione oggi venga pagata dai giovani di oggi non sta in piedi perché i giovani di oggi saranno sempre di meno e i pensionati saranno sempre di più quindi per forza che il sistema salta quindi è abbastanza certo che i sistemi pensionistici andranno in default prima o poi e in Italia in particolare in un paese dove c'è questo meccanismo dove non c'è un fondo dove i tuoi contributi sono andati in questo contenitore che verranno usati per la tua pensione quindi questo è un tema molto molto importante che andrebbe chiesto ad un sociologo andrebbe chiesto che cosa facciamo cosa potremmo fare per trovare delle soluzioni ad un meccanismo che non sta in piedi mi sento di poter dire una cosa positiva a livello Italia lo dico per tutti non per i giovani che ovviamente avranno qualche problema in più ma magari noi che abbiamo almeno 20-30 anni di contributi l'unica riforma strutturale che è stata fatta in questo paese negli ultimi 40 anni perché di altre riforme strutturali così a Nasa non me ne vengono in mente è stata quella che ha introdotto il meccanismo contributivo dove finalmente abbiamo lasciato a parte il meccanismo retributivo che era un qualcosa il meccanismo retributivo definiva la pensione in funzione degli ultimi 5 anni di stipendio quindi è proprio una cosa che non sta in piedi almeno così la pensione venne definita in funzione dei contributi che ha versato per cui almeno questo ha dato un certo numero di anni non so quanti andrebbe chiesto a un economista della giunità generale del Stato quanti anni ancora il sistema pensionistico italiano in grado di rimanere in piedi grazie al metodo grazie al metodo contributivo questa sarebbe la domanda la domanda da fare prima o poi comunque arriverà un problema e quindi qui non ho la risposta purtroppo salverio cioè è chiaro che ci sono previdenze integrative che possono cercare di però non so quanto possa comunque tenere come la piramide se voi guardate ne parlo in un paio di paragrafi nel mio libro se tu guardi la piramide è diventata cacovolta ormai cioè non è più sostenibile per cui ci sono la politica cosa ti dice un'altra parte della politica dice portiamo giovani da altri paesi emergenti e ricreiamo una base di giovani che possano finanziare le pensioni in futuro un'altra parte della politica parla del reddito universale però il reddito universale chi lo paga c'è questo il problema per cui è una bella domanda difficile che mi hai fatto però quello che ti posso dire è che grazie al sistema contributivo un po' di ossigeno l'abbiamo preso e dobbiamo accelerare le riforme per riequilberare lo stato delle nostre del nostro sistema previdenziale altrimenti il problema sarà ancora prima rispetto a quello che pensiamo perfetto grazie Marco però io vorrei prima di sondare se anche il pubblico e i nostri ascoltatori hanno delle domande vorrei chiederti un'altra cosa cercherò di essere molto breve perché tu hai citato il rapporto DESI Digital Economy and Society Index Society Index c'è un dato fra i tanti dati inquietanti perché non c'è solo uno purtroppo sono tanti noi siamo se non sbaglio la diciannovesima posizione su 28 27 quanti siamo quindi più o meno siamo sempre lì sulla digitalizzazione pubblica sull'integrazione digitale sulla connettività però c'è anche un altro dato interessante che non è dato dal DESI che è stato commissionato all'Unione Europea ma da VPN Nord Nord VPN che è un provider ha calcolato che noi italiani stiamo tanto su internet che ovviamente è un calcolo prospettico ci passiamo un terzo della vita quasi 30 anni noi abbiamo un'aspettativa di vita di 85 in media le donne in Italia 86 quindi quasi un terzo della nostra vita noi italiani la passiamo online ora c'è quindi una contraddizione soprattutto perché consideriamo che abbiamo un grande digital divide di secondo livello circa il 20-40% della popolazione non ha accesso a internet tramite il desktop ma tramite mobile abbiamo un alto tasso di analfabetismo funzionale il 28% della popolazione secondo un rapporto 2023 tu come spieghi questa contraddizione tra il fatto che abbiamo un grande digital divide una grande digital illiteracy e passiamo tutto questo tempo su internet cioè grazie della domanda sei pessimista su ciò no 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 me lo sono posto anche io questo tema non tanto sul che non sapevo del dato di NordVPN ma sui cellulari il boom dei cellulari che c'è stato in Italia conferma sostanzialmente questa tua visione conferma questo dato a volte noi italiani nella nostra mediocrità dei problemi che abbiamo nella nostra società nelle nostre aziende eccetera riusciamo a fare questi punti di eccellenza che in effetti sono figli della nostra cultura e dell'accelerazione all'ultimo momento in certi benchmark dove siamo meglio meglio del resto del mondo del resto in tutti gli altri paesi ora sicuramente abbiamo qualche cosa siamo anche migliori in creatività siamo anche migliori nel lusso nel mobile nel food cioè noi abbiamo queste caratteristiche ma sono delle caratteristiche che mi portano ad essere ottimista per il sistema paese negli altri settori mi ricordo in un convegno parlai con un altro un collega che aveva fatto un libro un innovatore diceva no ma perché se è così negativo l'Italia alla fine ce la fa sempre ma l'Italia ce la fa sempre nell'innovazione di prodotto perché noi siamo bravi a prendere 30 milioni di cellulari a creare quel capo di abbigliamento bellissimo a creare un divano che non ha precedente noi siamo i migliori del mondo noi abbiamo le aziende le barilla ma dei geni i nostri imprenditori che creano da zero queste aziende che hanno un'eccellenza nel mondo sono i geni in assoluto però io divento pessimista quando parlo del digitale adesso dopo vi faccio un ragionamento un po' sul pessimismo che non deve essere necessariamente visto come una cosa negativa perché se diventa realismo ti porta a fare delle mosse anche strutturali delle riforme strutturali perché sei consapevole che sei messo male se continuiamo a essere consapevoli che sei messo bene non faremo mai niente e il nostro paese rimane così nel digitale se è vero io ho avuto anche la fortuna di conoscere Serino Piol un po' di anni fa e adesso che è mancato tra l'altro un libro bellissimo che suggerisco anche a voi di leggere cioè l'ultima innovazione importante nel digitale in Italia è stata l'Olivetti stiamo parlando di 50 anni fa qualcuno di voi è in grado di dirmi negli ultimi 50 anni se questo paese dal punto di vista digitale oltre ad essere il più grande utilizzatore di cellulari o il più grande utilizzatore di rete internet e di passare il 30% della nostra vita a navigare su internet ma qual è la realtà digital tecnologica che noi abbiamo creato in Italia negli ultimi 50 anni dopo l'Olivetti e noi dobbiamo essere consapevoli che adesso magari qualcuna ce n'è me sfuggita però sto parlando di innovazione di Srapti sto parlando delle Amazon delle Neuralink delle SpaceX delle Tesla sto parlando di queste cose qua ecco purtroppo sono tutte aziende e quindi è vero quello che dici tu a volte riusciamo ad essere all'eccellenza nell'utilizzo di certe cose oppure siamo all'eccellenza nel Made in Italy siamo i migliori nel mondo ma io adesso purtroppo sto parlando di digitale e di innovazione tecnologica su questo purtroppo non vedo molto in Italia vedo molto all'estero questo se posso permettermi di aggiungere una considerazione siamo anche quasi ciechi delle nostre potenzialità al di là di tutti i nostri creatività ma pensiamo agli smart glasses che secondo alcuni scenari potrebbero essere il futuro della tecnologia wearable sostituiranno gli smartphone ma noi abbiamo luxottiche tutti gli occhiali sono fatti da lì ragazzi potrebbe esserci un ecosistema immenso non mi sembra abbiamo 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 sicuramente le capacità secondo me lo ripeto il settore del digitale ha bisogno di un forte boost dal punto di vista del sistema educativo dobbiamo aumentare in modo importante le competenze STEM nelle nostre scuole e dobbiamo cercare di creare dei percorsi professionali che portano sempre più persone ad avere competenze digitali il problema è che in questo paese noi abbiamo una dose di competenze digitali soprattutto nelle materie scientifiche che è purtroppo molto 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 basso anzi ai minimi di tutto il settore europeo e così non andiamo da nessuna parte bisogna ricominciare a investire lì investire nel nel sistema scolastico con molto più molto più tecnologia e materie di tipo STEM e poi via via renderle generaliste e creare questa capacità del learn to learn che andavo a dire prima forse nel giro di 10 anni 15 anni riusciremo a creare ad aumentare i giovani schillati in questo tipo di competenze magari riusciremo a fare qualcosa di più in futuro in questo settore della tecnologia digitale speriamo Marco speriamo se no è una tragedia allora io esorterei se no posso continuare io Marco a bersagliarti di domande ma non mi sembra vorrei lasciare anche e sentire qualcuno del pubblico se ha delle curiosità se vuole portare avanti una domanda peraltro in chat vedevo che Cristina Entroppi se c'è ancora se è ancora connessa chiedeva poi se vuole chiederlo lei direttamente anzi facevano giustamente secondo me anche notare che al di là oltre insieme alla capacità di imparare continuamente le competenze un altro fattore chiave sono le competenze relazionali lei parla di approccio sistemico intero e più più grande della somma delle parti assolutamente secondo me sì ecco però Marco io vi dico un po' la mia visione su questo è vero allora chi ha delle hard skill tecnologiche il suo percorso di crescita l'ho fatto anch'io nel mio percorso di carriera è nelle soft skill e poi anche diciamo nelle soft skill quelle più avanzate che sono quelle relazionali sto parlando di intelligenza emotiva chiunque voglia capire un po' cos'è basta che vi comprate un libro di Goleman quello anche base e vi spiega quanto è importante la competenza relazionale verissimo verissimo quindi proprio perché il profilo di un manager il profilo di una persona all'interno che poi deve gestire l'innovazione deve essere completo se sei forte nelle technology skill nelle hard skill è giusto che tu ti impegni molto nelle soft skill e quindi non solo quelle base per cui il team management la gestione empowerment delle persone la motivazione delle persone cose assolutamente vere e addirittura le competenze relazionali sono d'accordissimo il tema è che poi ci sono invece persone che hanno solo competenze relazionali di soft skill che per far qualcosa nell'innovazione della tecnologia devono creare delle basi competenze tecnologiche perché se no rischiamo di avere innovatori che non sanno la differenza tra una blockchain e l'intelligenza artificiale che sono cose o il metaverso cioè sono cose diverse quindi io sono convinto che dobbiamo avere un po' di tutto e sono convinto con quello che dice Cristina che le soft skill sono la cosa più importante ma per chi ha delle importanti soft skills poi sul sistema educativo per Saverio per confermare il tema che dicevo prima cioè io non è che sono perché qualcuno mi ha detto ma tu parli di stem quindi sei contro le materie umanistiche non è così io sono per il mix se tu vai in America dove sono tutte materie scientifiche è giusto che insegnino qualcosa di umanistico è giusto che insegnino un po' di filosofia di latino un po' di qualche materia che ti può dare un profilo più più rotondo in Italia abbiamo quasi sostanzialmente solo le materie umanistiche perché quello che ha detto Cingolani io lo sposo al 100% cioè noi studiamo tre volte le guerre puniche ma piantiamola di studiare tre volte le guerre puniche e magari un pochino di tecnologia magari un pochino di coding lo raccontiamo ai nostri ragazzi rivoluzioniamo completamente il sistema educativo togliamo le scuole medie le scuole medie non servono a niente non ci sono nel mondo non servono a niente la scuola media è il problema del percorso scolastico in Italia perché è il momento in cui soprattutto le ragazze si allontanano dalla matematica si allontanano dalle materie scientifiche perché sono insegnate male perché e quindi da lì quindi togliamo le scuole medie rendiamo più generaliste e insegniamo tutto a tutti dobbiamo insegnare qualche cosina un po' a tutti in modo che si sappia se aveva una competenza generalista quindi attenzione non interpretate il mio messaggio STEM come per dire solo STEM no è chiaro che se tu fai un percorso con molte materie umanistiche in Italia è giusto che tu le vada a ridurre per fare più spazio per le materie STEM perché sono già molto alte negli Stati Uniti dove la materia umanistica soltanto non esista è giusto che le aumentino questo era un po' il percorso per e poi è la stessa cosa technical skills hard skill e soft skill dobbiamo avere un po' di tutto dobbiamo essere bilanciati grazie Marco perfetto c'è Giovanni che vuole fare una domanda il nostro chapter leader Giovanni Mocchi alzato la mano Giovanni la telecamera spenta perché ho poco campo grazie Marco stimolante la discussione sul tema del problema Italia vorrei però enfatizzare il fatto che non solo non c'è un'azienda italiana a livello mondiale ma non c'è neanche un'azienda europea a livello mondiale anche paesi che suddesi sono più avanti di noi non riescono a esprimere dei leader mondiali come sai io lavoro nella più grande azienda italiana e tecnologia che è la Zucchetti noi siamo in 15 paesi ma il problema che noi abbiamo per scalare l'offerta a livello globale è che ogni paese dove tu vai in Europa hai leggi diverse lingue diverse a livello normativo devi localizzare dei prodotti pensa al fiscale pensa alle paghe si fanno in maniera diversa in tutti i paesi europei mentre non siamo come dire un digital single market dell'Europa mentre invece negli altri paesi parlo di Cina e America l'investimento fatto su un continente è molto più facilmente scalabile questo è un grande problema inoltre c'è il grande tema della regolamentazione come sai l'Europa tende ad essere molto attenta a certi aspetti questo limita tante volte anche le capacità imprenditoriali delle aziende come mi insegni gli arbitri quindi l'Europa gioca un po' questo ruolo di arbitro gli arbitri possono decidere che vincere ma non vincono mai quindi i problemi non sono solo secondo me a livello di singolo paese o di competenze digitali che è un problema dell'Italia ma più globalmente vanno visti a livello complessivo di come stiamo impostando a livello europeo la nostra la nostra crescita il nostro sviluppo adesso sono curioso di vedere cosa Draghi scriverà ma non so cosa tu ne pensi su questo argomento sono d'accordo con la tua analisi il problema è che proprio l'Europa è messa male rispetto agli americani e ai cinesi e noi all'interno dell'Europa siamo messi male rispetto ai tedeschi e ai francesi quindi noi siamo a questo punto come Italia noi che eravamo la quinta potenza mondiale un po' di anni fa quinta o sesta adesso non mi ricordo noi oggi siamo un di cui di un di cui quindi è vero che l'Europa ha dei problemi anche se però Giovanni tu sai che la Francia per esempio fa sistema sul settore della security e i tedeschi non dimentichiamo la scalata di Airbus verso Boeing cioè francesi e tedeschi hanno fatto la meccanica di precisione dei tedeschi cioè ci sono alcuni settori se guardate le start up più importanti qualcuna europea si intravede ok qualcuna europea si intravede è vero che siamo messi male però l'Europa ha un problema di iperregolamentazione ma l'Italia è fanolino di coda in Europa che è fanolino di coda mondiale quindi a me preoccupa come manager italiano questo doppio declassamento perché se fossimo i leader all'interno del continente europeo di un continente che comunque rispetto agli altri all'America o alla Cina che hanno due modelli diversi l'America c'è quello spinto meritocratico capitalistico e quello cinese invece quello più state driven però in America sappiamo che cosa creano intelligenza artificiale eccetera in Cina probabilmente stanno facendo qualcosa di simile ma non lo sappiamo per cui c'è anche un tema di informazioni che abbiamo rispetto a ecco a me preoccupa questo doppio declassamento e l'Italia oggettivamente dobbiamo essere ottimisti negli ultimi anni ha fatto dei passi indietro poi ci sono i paesi nordici io non ho parlato solo di tecnologia io quando parlo di green economy beh insomma i paesi nordici chapeau sono molto avanti le aziende più importanti nell'eolico nel solare sono dei paesi nordici hanno un loro una loro particolarità rispetto al settore della scienza e della tecnica e quindi una certa leadership un settore nel quale riescono ad eccellere però lo ripeto non vorrei dare una versione troppo pessimistica del nostro paese che ha un potenziale in poco tempo di poter recuperare la mia preoccupazione è che per recuperare dobbiamo fare riforme strutturali alla base nella ricerca e nella formazione prima nella formazione poi nella ricerca e le riforme strutturali sono difficili da fare per questo paese ecco sì purtroppo basta i francesi ora non perché vuoi guardare l'orticello dei vicini ma voglio dire quante quante start up ci sono in Francia rispetto a quante ce ne sono in Italia di quelle che hanno successo io non sto dicendo che gli italiani non siano un paese start up anzi credo che molti potrebbero aprire la propria start up magari poi non ne hanno nemmeno la competenza però questo il problema è nostro Saverio non so se siete d'accordo noi abbiamo una fortissima creatività quindi nella start up e nell'innovazione noi abbiamo una capacità unica per trovare l'idea alla fase iniziale ma una totale incapacità di fare l'execution cioè di portarla a casa quindi spesso l'idea nostra viene presa viene mandata in un altro paese la quale poi sviluppa sviluppa l'idea sviluppa la start up e poi la e poi questa viene lanciata sul mercato sì purtroppo sì vorrei intervenire se posso con un'osservazione gli investimenti in formazione perché attraverso magari l'eliminazione della scuola media e una università migliore incentivazione dell'imprenditoria eccetera si possono e si devono fare però tenendo conto di una al momento irreversibile trasformazione delle dinamiche demografiche che vedono il collasso della popolazione italiana dovuto ad uno dei tassi di natalità più bassi del mondo e quindi esagerando non ci sarà problema di chiudere la scuola media perché non ci saranno bambini e l'economia però non potrà esistere quando quelli che promuovono e propagandano la decrescita avranno i loro desideri soddisfatti e avremo una popolazione che nell'arco di una generazione potrà dimezzarsi cioè nell'arco di 20-30 anni la popolazione italiana oggi come oggi è destinata a passare da 60 milioni a 30 milioni e questo si può cambiare esclusivamente con il cambiamento delle politiche sull'immigrazione perché al momento in nessuna parte del mondo con nessun tipo di incentivo altre nazioni nelle stesse condizioni italiane sono riuscite a convincere le coppie a fare più figli la cosa che più mi preoccupa david è se da 60 milioni andassimo a 30 mantenendo una struttura piramidale consistente potrei essere meno preoccupato però il problema è che la piramide si sta rovesciando e quindi oltre ad esserci meno bambini potenzialmente potremmo diventare 40 milioni perché l'Italia è il target per il turismo o per gli ultimi anni per l'agraeconomy ne siamo il paese migliore nel mondo perché abbiamo paesaggi bellissimi si mangia bene quindi noi avremo una popolazione anziana importante ma tanta ma tanta e pochi giovani quindi da una parte il sistema pensionistico e dall'altra parte potremmo puntare al turismo dell'agraeconomy mettiamola così però condivido la tua preoccupazione e quindi per questo che riesco a essere poco ottimista quando penso al futuro e non cambiamo in modo strutturale il nostro paese e dopo vale il discorso di Giovanni anche l'Europa ha bisogno di riforme strutturali assolutamente 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 ma poi voglio dire noi tu giustamente prospetti uno scenario diciamo chiamiamolo così permettimi il termine Disneyland della terza Italia Italia chiamiamolo così ma in maniera ovviamente un po' boccaccesca diciamo che il turismo il settore del turismo l'agraeconomy il servizio alla persona è sicuramente un settore ad ampio sviluppo in questo paese certo però io mi permettevo di dire che è vero che noi abbiamo un buon clima il buon cibo però è anche vero che c'è il climate change e non si sa dove si va a parare perché se qua mi arriva il tempo brutto tutto l'anno e mi vanno a benedire le coltivazioni il buon cibo il buon paese e il bel tempo vanno a farsi benedire e a quel punto l'agraeconomy dobbiamo inventarci un'altra sarà già difficile secondo me far capire a tanti imprenditori o comunque a tutta la popolazione italiana che bisogna puntare sulla grey economy se poi c'è anche il game changer il cambiamento tu giustamente dici può arrivare anche un altro del domani però guardatevi sempre che il cambiamento climatico un po' lo spiego nel libro allora noi abbiamo ormai in modo irreversibile ri irreversibile creato 1,5 gradi in più di media per tutto il pianeta e qui non si torna indietro 1,5 è irreversibile questo è stato dimostrato è chiaro che l'1,5 produce tutti gli effetti che già stiamo vedendo non so se qualcuno di voi si è in accordo di questo inverno soltanto stiamo saltando l'inverno ok questo non vuol dire comunque da puntista turistico un problema però Saverio perché per le zone del nord vuol dire un aumento della stagione estiva e un peggioramento di quella invernale sicuramente per le stagioni del sud devo dire più caldo ma se è caldo e secco è in qualche modo gestibile il problema è il livello dei mari sicuramente questo è un problema serio però voglio dire cerchiamo di evitare che questo 1,5 diventi 4 gradi perché in questo momento ricordatevi sempre che il report scientifico dell'IPCC che io descrivo nel libro dice che in questo momento se noi conteniamo così diventa 4 gradi cioè noi non solo abbiamo causato 1,5 irreversibile ma abbiamo invocato la strada con un bel 4 con il cartello che ci dice di qui diventano 4 ok quindi questo è il tema di cui dobbiamo essere consapevoli cosa prevedi di fare a cortina per la neve quindi sarà un bel problema no certo un bel problema ma ti dico di più che l'ha detto che non è una parte della tecnologia quindi ma in generale gli sport invernali saranno sicuramente impattati più che la mancanza di neve viene bilanciata dagli impianti di neve artificiale il problema della neve artificiale è che bisogna di acqua e di temperatura e quindi torno sul discorso della Blue Economy guardate che veramente io sono convinto che l'acqua sarà veramente un altro settore in rapida espansione e sarà la materia prima mettetela così la risorsa naturale che più sarà preziosa per il futuro quindi teniamocela bene non consumiamola cerchiamo di di avere un modello attivo di società che ne preserva la qualità e la quantità Marco in chat qui a Dama ci chiede ci dice le cose che vedo la cosa che vedo nelle aziende come Barilla o Ferrero loro i management i capi e dice oltre a non vorremmo investire nell'adozione dell'altra tecnologia non vogliono investire nelle soluzioni non adozione di soluzioni d'alta tecnologia e secondo Dama quello che potrebbe essere necessario anche per dare un bel boost all'innovazione tecnologica italiana sono figure professionali che portano appunto l'innovazione nelle varie aree aziende scuole cioè sostanzialmente noi siamo un po' un paese quello che credo voglia dire Dama ma penso di poter centralizzare siamo un po' scentofobico siamo non troppo ma l'avevi detto anche te basta vedere le statistiche sui percorsi di studio STEM fra le persone siamo un paese un po' diffidente nei confronti della scienza o perlomeno non siamo molto attratti dalla scienza io innanzitutto colgo l'occasione della domanda di Dama per rifare ancora un'altra un'esima volta un endorsement nei confronti dei grandi imprenditori italiani che sono riusciti Barilla Ferrero pensate Brembo Brembo è un'azienda che fa freni ma è l'eccellenza mondiale dei freni facciamo di quelle cose chapeau a questi signori a questi imprenditori che sono riusciti da un'idea da un'aziendina piccola di famiglia a creare dei colossi che purtroppo poi a fine in qualche modo magari i figli devono vendere la proprietà straniere per cui alla fine si perde l'italianità e poi alla fine questo modello di impresa rischiano poi di diminuire la nostra economia sta in piedi grazie qual è il limite di queste aziende qua sono due il primo che ovviamente un'azienda familiare per diventare un'enterprise deve fare un cambiamento culturale non è facile per un'azienda familiare che diventa così grande diventare una grande corporation internazionale senza fare uno sviluppo culturale portando dentro manager dagli altri dal settore non è facile fare questo grande cambiamento secondo l'information technology viene vista all'interno di queste aziende a volte all'inizio come una non priorità quindi spesso non parlo ormai di questi giganti che ormai sono diventati così grandi e si sono occupaggiati con information technology importanti ma la piccola e media imprese italiana è quella che meno scommette a volte sulla parte dell'information technology e questo poi la porta ad una mancata scalabilità ad un limite dal punto di vista dei propri processi e anche dei grandissimi rischi di di cyber security la piccola e media imprese italiana è quella che rischia di più da questo punto di vista rispondo invece alla domanda sul tema del paese Italia il paese Italia è avversario di solito è poco è poco noi siamo sempre stati per la nostra storia ma la vedete dalla copertina del mio libro c'è questo dinosauro della tecnocrazia che mangia delle persone che dai vecchi monumenti del nostro paese vanno a finire all'interno di questa di questi inconsapevoli all'interno di questo dinosauro rimaniamo legati al passato l'Italia è un paese di grandi di duemila anni di storia con grandi città d'arte una 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 grandissima competenza di materie umanistiche ma molto interessante molto importante e chiave per il paese però questa questa caratteristica purtroppo a volte se eccessiva porta anche a una scarsità di materie scientifiche che poi porta a essere sotto le classifiche che abbiamo visto prima eccessiva è sotto la media rispetto a tutti i paesi europei e anche rispetto a paesi americani quindi è un fattore storico secondo me che porta l'Italia a faticare in questo settore della scienza anche se poi abbiamo i rubia perché poi quando sei un paese che è mediocre nella sua media ha delle eccellenze che non hanno paragone perché poi uno scienziato in Italia se poi fa carriera è così bravo in un paese che non ha competenze che non ti insegnano ti insegnano poco allora se c'è vuol dire che sei ingegno e quindi vai all'estero e poi all'estero fai carriera e diventi Carlo Rubia certo assolutamente ma anche un Giacomo Rizzolatti mi viene in mente una ritalia di Montalcini abbiamo avuto delle eccellenze pazzesche fangine cioè noi poi diventiamo veramente gli italiani sono così abituati nella situazione scolastica di carriera così poco organizzata ed entropica che poi trovano quella soluzione quando vanno all'estero sono eccellenti perché riescono a trovare la soluzione in un contesto disastroso o disastrato e questa capacità è la capacità che noi abbiamo che non ha precedenti nel mondo però lo ripeto e sono pochi cioè stiamo parlando dell'eccellenza è chiaro che noi siamo molto polarizzati molto estremi abbiamo una media mediocre ma abbiamo dell'eccellenza che non hanno paragone invece gli altri paesi non hanno l'eccellenza ma nella media sono nettamente superiore a noi infatti vedo che anche Lorenzo Benetton qui ci scrive in chat evidentemente stava dicendo proprio come dicevi c'è qualcun altro che vuole fare domande? mi arriva un nuovo messaggio ecco la distribuzione della ricchezza cioè non so se c'è anche David come la pensate ho visto l'altro giorno i dati delle prime sette aziende tecnologiche del mondo che hanno incrementato grandemente i loro utili come credete che possa impattare queste tecnologie esponenziali con la distribuzione della ricchezza non pensate che si stia un po' polarizzando il problema tra ricchi e poveri e sempre più poveri ti cito due dati che cito anche nel libro perché sono andato a vedere le statistiche di Bloomberg allora c'è una polarizzazione netta aumenta la polarizzazione aumenta la distanza i patrimoni personali che se guardate nelle statistiche stavano intorno non so in più il manager tra virgolette col patrimonio personale più alto una decina di anni fa stava intorno ai 60 billion 60 billion all'anno oggi è di 200 ok quindi stiamo parlando da 60 a 200 che è sostanzialmente un per quasi un per 4 e si polarizza molto di più per cui ovviamente gli Elon Musk adesso poi Elon Musk è ormai il primo in assoluto nella lista il gap tra un Elon Musk e il 50esimo il 51esimo il 52esimo si è amplificato in modo importante io scommetto Giovanni anche qui parla di cristallo ma io scommetto su un aumento della polarizzazione cioè quindi la curva diventa più estrema sui due lati un aumento della polarizzazione e quindi la parte tra virgolette dei più ricchi o delle aziende più ricche a più alta capitalizzazione aumenta molto importante anche il dato delle capitalizzazioni che io riporto le top 15 delle aziende dal punto di vista della capitalizzazione più importanti un po' di anni fa una decina di anni fa stavano intorno ai 2000 billion cioè sommando la capitalizzazione delle top 15 sono 2000 miliardi di dollari ok oggi sono 14.000 miliardi di dollari quindi stiamo parlando di un per 7 cioè in 10 anni si è si è duplicato si è duplicata la capitalizzazione delle top 15 quindi da una parte aumento della polarizzazione da un'altra parte chi sta in alto aumenta in modo per 7 per 8 il volume rispetto a quelli che erano un po' di anni prima questo è di meno è molto di più dell'effetto inflativo però Marco come è sostenibile nel lungo termine questi estremismi perché mi insegni che queste inequità alla lunga porta a guerra porta a ribellioni cioè c'è bisogno per sfruttare questa grande opportunità di tecnologia bisogna dare una soluzione a questo problema se no alla lunga non tiene il sistema o rischia di non tenere no? questa è l'unica domanda dove ritorno a fare lo scienziato tecnologico e lascio rispondere gli illustri sociologi o chi magari se ne intende di più di me ma sono d'accordo con te rispetto a rischio non ho la soluzione ovviamente il rischio è che sia anche una bolla in certi casi Giovanni sicuramente queste aziende che da zero in qualche anno da una capitalizzazione di 100 billion arrivano a valere 2.000 poi la discesa fa male e può essere veloce come la salita perché è quello che abbiamo imparato no? e delle salite esponenziali e che anche le discese possono essere esponenziali in generale aumenta la velocità aumenta la velocità di tutto i cicli diventano molto più veloci aumento e diminuzione blockbuster prende poi chiude non so quali potrebbero essere il futuro adesso delle apple delle amazon eccetera eccetera però sicuramente non so se siete d'accordo l'aumento di velocità è un punto chiave secondo me sia positivo che negativo posso fare un intervento? beh grazie volevo chiederti questo Marco inzitutto grazie molto interessante anche un dibattito estremamente interessante il mio punto è questo abbiamo esploso tutte le difficoltà del paese relativamente al sistema scolastico eccetera eccetera lo stem eccetera e su questo direi che siamo tutti perfettamente d'accordo non penso che ci sia molto a discutere siamo perfettamente d'accordo grazie di avere anzi delineato puntualmente la cosa piuttosto che rimanere così un po' nell'aria con concetti non poi calati nei numeri e nel quantitativo però la mia domanda è questa tu prima hai parlato che sei positivo negativo ottimista negativo oppure negativo per cambiare però ci vuole la consapevolezza di cui parlavi tu prima io personalmente non vedo però questa forza nel paese nel cambiamento nell'abbracciare queste problematiche e portarli a soluzione che cosa bisognerebbe fare perché ci fosse maggiore consapevolezza e si prendessero delle azioni perché non è questione di partito di governo mi sembra che negli anni negli ultimi dieci anni tu prima hai citato Dini e la sua riforma pensionistica che è del 1996 quindi sono quasi 30 anni quella di Monti io ho citato quella del governo Monti che è stata fatta un po' più recente che quella che ha non è notato il contributivo beh quello che ha introdotto il contributivo che è stato Dini e 96 che ha introdotto mezzo Monti l'ha accelerato io ho apprezzato l'accelerazione di Monti comunque si tratta di episodi ma nel paese o quantomeno nel dibattito così non è che vedo prendere delle azioni serie riguardo anche alla stessa scuola la modifica della scuola tu dicevi che uno dei problemi è la scuola media ma non penso che si parli di modifiche di cose che realisticamente stanno venendo avanti quindi i problemi sono chiari ma la volontà di risolverli io sono un po' scettico a riguardo non la vedo tu cosa ne pensi? io fammi dire una cosa positiva e ottimistica ogni volta che parlo con i giovani parlando dei millennials anzi di chi oggi ha 18 19 anni 17 vedo positività vedo un qualcosa un po' come se le generazioni forse ero cicliche una generazione molto positiva magari quella dopo un po' problematica quella dopo ancora molto positiva io vedo in alcuni ragazzi ma giovanissimi stiamo parlando che aprono alcune piccole start up che mollano tra virgolette un certo lavoro si mettono a fare impresa vedo qualche positività per cui spero che l'ultima generazione quindi quella dei nati quelli che oggi hanno 17 15 anni ecco insomma comincio a vedere qualcosa di positivo per cui sai che poi se questi ragazzi qua cresceranno in un contesto difficile perché creano in un contesto dove la pensione sarà un problema trovare lavoro sarà un problema il mondo è pieno di guerre la sostenibilità gli ha detto che probabilmente non loro ma probabilmente i loro figli avranno dei seri problemi anche a trovare un mondo vivibile ecco secondo me c'è un po' di positività quindi ogni volta che penso ai giovani di oggi divento un po' più un po' più ottimista sono un po' più pessimista a guardare la generazione mia e quella dopo la mia la nostra quindi mi metto un po' mia e dopo la mia la vedo un po' ancora incrostata che non chiede questo forte cambiamento ma ai giovani di oggi e anche una visione un po' più globale come quella che diceva David sono un po' più positivo mi spinge ad essere un po' più ottimista poi è chiaro che se i giovani chiederanno con forza questa sterzata a quel punto la politica a certe riforme deve farle sì spesso chi ha creato il problema è difficile che lo risolvano se noi abbiamo portato qua al paese voi vi riconoscete vedete in questi giovani di oggi l'ultima generazione vedete anche voi un po' di positività io sto cominciando a vederla questa positività questa è la cosa che mi piace la mia unica preoccupazione è che giustamente la generazione entrerà nei meccanismi col tempo e noi avremo bisogno di questi cambiamenti ieri visto dove siamo posizionati dicevamo in Europa sempre a 25 26 27 posizione la nostra siamo veloci l'Italia è un paese veloce nel fare il cambiamento per cui se la capiamo e se incominciamo veramente a fare queste riforme questo è un paese che può battere sui tempi qualunque altro speriamo speriamo bene io se posso dirlo poi sondo un po' l'umore a tutti nel senso se sono 10 alle 8 se tra un po' possiamo anche chiudere però questo me lo direte voi ecco il mio modesto parere è che se guarda un paese come il Portogallo che ora inizia ad avere qualche problemino ma nel 98 se non sbaglio il 99 il Portogallo lascò il fondo del barile tocco proprio ecco questa crisi chiamiamola così questo problema questa crisi questa criticità di tutto il sistema economico portoghese portò a a fare delle riforme che per un certo periodo hanno portato a dei buoni frutti ovviamente non è una nazione ricca come l'Italia detto molto esemplificatamente però ha portato a delle riforme incentivi per start up attrazione di capitale straniero eccetera il problema in Italia è che difficilmente raschiamo il fondo del barile perché viviamo tutti i renditi siamo come lo ha definito Ricolfi che può piacere o no una società signorina di massa lui parla di lenta argentinizzazione non me ne abbiano gli amici argentini ma comunque uno sgretolamento del tessuto socio-economico lento ma irreversibile questo è uno scenario ovviamente non è detto che per forza avvenga ma ogni giorno che passa è sempre più difficile portare avanti le riforme io credo c'è anche un problema di sistema istituzionale elettorale che non è facile governativo ma è una sfida ardua io credo che la tecnologia però avrà un impatto talmente grande che o sfacerà tutto o rifare o o o dal boost diciamo dalla la spinta che ci serve per portare a delle riforme a dei cambiamenti che sono imprescindibili ormai siamo indietro già siamo già molto indietro però forse forse questo però non lo so sono scenari troppo difficili da lo vedremo solo vivendo quello che posso condividere con voi è che proviamo a scommettere sulla tecnologia che con la sua velocità e con il suo impatto così ampio costringerà la società a un certo punto a cambiare perché così non può e quindi il costringerla a cambiare è già un elemento positivo ora cambiare in quale direzione lo ripeto insomma la mia visione è che il futuro della società sarà governata necessariamente da persone esperte di tecnologia perché il futuro della società è tecnologico per cui chiederà chiederà a noi esperti di tecnologia ci chiederà ma tu cosa ne pensi cos'è che potremmo fare ecco qui la mia paura che così vi do messaggio chiave dell'ultimo capitolo è che io da detto ai lavori non posso e non posso farlo e non voglio farlo di essere io a dover fare o dare dei suggerimenti della società del futuro non possiamo essere solo noi scienziati solo noi tecnologi solo noi tecnocrati a scegliere la società del futuro dobbiamo essere in questa fase più in così di possibile come facciamo per portare a bordo di questo gruppo che sceglie la società del futuro più persone possibile l'unico modo per farlo è quello di spingere tutte le persone che stanno vicino che ti sentono tagliate fuori e che non sono si vedono esclusi dalla tecnologia a cercare di essere attratti stavolta dalla tecnologia e per farlo io cerco con questo libro di spiegare in modo semplice come sarà il futuro e cerco in questo libro di dire se tu ti senti tagliato fuori sfrutta quel ponte di entrata che è la tua competenza la tua passione che anche quella lì diventerà digitale e cerchi di entrare nel mondo del digitale perché abbiamo bisogno di te noi non possiamo fare in modo che la società del futuro venga disegnata da ingegneri o da tecnocrati come noi abbiamo bisogno di altre competenze abbiamo bisogno di spessore abbiamo bisogno di filosofi sociologi ma che vengano che si interessino però della nostra materia perché il futuro sarà dominato dalla nostra materia e noi abbiamo bisogno di loro questo è un po' il messaggio che volevo portare anche a voi tutti noi di Singularity secondo me abbiamo qualcosa in più grazie al nostro network grazie alle serate che facciamo grazie alle 50 serate eccetera che abbiamo fatto raccontiamo di fatto facciamo divulgazione io col mio libro cerco di fare divulgazione facciamo divulgazione per chi magari non è addetto ai lavori cercando di calamitare chi non è addetto ai lavori perché lo sia in qualche modo più competente possibile in modo che possa aiutarci a usare della tecnologia la parte positiva della tecnologia non quella negativa ma l'unico modo per usare la tecnologia perché abbia un effetto positivo è 1. conoscerla 2. assumerla a dosi limitate sapendo quali sono i propri limiti e non eccedendo nell'utilizzo della tecnologia quindi usandola in modo intelligente diventa un valore per la società e ci aiuterà ad avere una società più equa una società più giusta una società più sostenibile eccetera eccetera se invece o la escludiamo o non la comprendiamo o la utilizziamo male allora avremo solo degli effetti negativi quindi dipende un po' da tutti noi certo Marco certo io prima di chiudere se voi siete tutti d'accordo sono le otto quindi diciamo che stavo provando a inoltrarvi i risultati del sondaggio ma non vorrei fare un pastrocchio giusto perché si parla di competenze digitali allora semplicemente vi leggo che la preferenza maggiore è stata per ve lo trovo subito le neurotecnologie abbiamo una un 66% di voti che ehm prediligono la neurotecnologia come prossimo e quindi le BCI e no Neuralink visto anche è un trend topic ora eh quale prossimo uno dei prossimi possibili dei prossimi argomenti degli eventi dell'Exponential Learning Process eh scusate Exponential Learning Experience di Singularity eh e più o meno ci sono mh siccome è un test è un questionario risposta multipla diciamo che il 50% dei votanti ha anche espresso la sua preferenza sull'economia eh low earth orbit sulla super longevità sul green tech e sul anche questo è un altro tema caldissimo direi il famoso bottone rosso applicato agli LLM l'intelligenza artificiale quindi evitare lo scenario terminator questi più o meno sono i gli argomenti che sono risultati più interessanti eh al nostro pubblico di oggi quindi noi prenderemo nota e ovviamente terremo conto di ciò e ci organizzeremo dei rimani io sarei per chiudere se Marco è d'accordo se tutti voi siete d'accordo se non ci sono altre domande se nessun altro vuole intervenire e Marco della serata molto utile se eh a lettori e non lettori ricordatevi che comunque uno spazio di condivisione in Tapa Talk c'è magari anche lì possiamo fare qualche discussione andare avanti in qualche chiacchierata eh mettendo in crisi anche le posizioni che ho assunto sono qua per un confronto perché eh per pensare al futuro è la palla di cristallo quindi quindi ricordatevi che ho provato anche a creare questa cosa si sa mai magari possa avere non so dove mi porterà perché la prima volta che un libro ha creato una sua copia digitale in una piattaforma di discussione per cui è anche un po' rientra un po' nella sperimentazione prototipale che caratterizza tutti noi attivisti di singularity anche nelle quando ci siamo lanciati col metaverso e questa comunità è stata di fatto la prima in assoluto no? che ha fatto questa sperimentazione quindi avanti così è sempre meglio fare una cosa che poi fallisce piuttosto che non farne mai neanche una eh perfetto grazie 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 ciao ciao buona serata a tutti buona serata grazie grazie Saverio ciao grazie a te Giovanni grazie a te complimenti bravi avete realizzato bene la cosa grazie ciao 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 a tutti a tutti ciao ciao ciao